Benvenuti in Gegerle Cutre. Gegerle Cutre è un marchio di orologi di lusso svizzero fondato nel 1833 nella Val Giù, in Svizzera. Con oltre 180 anni di storia, il marchio è noto per la qualità della produzione e l'innovazione tecnologica, infatti vanta oltre 430 invenzioni brevettate. Gegerle Cutre rappresenta l'arte dell'orologeria svizzera, un'arte che si tramanda di generazione in generazione, mantenendo sempre alti i propri standard qualitativi. Gegerle Cutre è uno dei pochi marchi di orologi al mondo che produce in house la maggior parte dei suoi movimenti, infatti ha realizzato quasi 1300 calibri. Grazie a questo approccio, Gegerle Cutre è in grado di creare orologi sofisticati e di alta qualità, che rappresentano un simbolo di eleganza e di prestigio. La Maison offre una vasta gamma di modelli, da quelli più semplici a quelli più complicati, per soddisfare le esigenze di ogni appassionato di orologi. Il Reverso, ad esempio, è tra i modelli più iconici del marchio. Questo segnatempo presentato nel 1931 è caratterizzato dal design unico e reversibile, un simbolo di eleganza e stile. Nato dalla richiesta di un giocatore di polo, al Reverso è stata data la funzione di capovolgere l'orologio, per proteggere il quadrante da urti accidentali, provocati da questo sport. Con il tempo ovviamente Gegerle Cutre lo rinnovò aggiungendo complicazioni estremamente sofisticate come il Tourbillon, che rese il design di questo modello ancora più unico ed eccezionale. Ma non solo il Reverso, anche il Duometre è un orologio di spicco della Maison. Questo segnatempo, lanciato nel 2007, è famoso per l'utilizzo della tecnologia Dual Wing, che consiste in due movimenti indipendenti presenti in un unico orologio, uno per la funzione di tempo e l'altro per una complicazione addizionale. Questa funzione permette all'orologio di essere estremamente preciso nonostante la complicazione extra, che nel caso del Duometre comprende cronografo, GMT o fasi lunari. Tra i fan del marchio troviamo diverse celebrità e figure di spicco, come il popolare attore Robert Downey Jr., l'attrice Diane Kruger e persino il principe di Galles. Ma una delle partnership più d'eccezione è sicuramente nel mondo del cinema con il celebre personaggio dei fumetti Batman, infatti nel 2012 si può vedere un Reverso Grand Date edizione limitata al polso di Bruce Wayne, interpretato da Christian Bale. Una scelta perfetta per questo personaggio, che rispecchia perfettamente il Reverso, un orologio capace di trasformarsi nascondendo anch'esso una seconda personalità. Gegerle Cutre rappresenta l'arte dell'orologeria svizzera, un'arte che si tramanda di generazione in generazione, mantenendo sempre alti i propri standard qualitativi. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso di alta qualità, Gegerle Cutre è sicuramente un marchio da considerare.